Licenziato, anche se il suo nome non risulta nel registro degli indagati per la scomparsa dell'oro dal portavalori. Il collega di Antonio Di Stazio, il vigilante che l'11 luglio era sparito con verghe d'oro e argento per un valore di 4 milioni di euro e oggi accusato di furto aggravato, è stato licenziato dopo essere stato sospeso dalla Securpol e si trova adesso senza lavoro. Una decisione presa dall'ufficio sicurezza, fanno sapere dall'azienda, motivata da incongruenza nel racconto della giornata del furto. Una scelta fatta mal in cuore ma inevitabile, dicono dalla seda retina di Securpol. Immediata la contestazione da parte dell'avvocato dell'uomo, Anna Miele, che ha annunciato di impugnare la decisione ricorrendo al giudice del lavoro. Peraltro il suo assistito è persona offesa nel procedimento che ha portato all'arresto di Di Stazio. Tra le contestazioni mosse dall'azienda retina ci sarebbe una sosta ad un bar di Baglialpino, quattro minuti di stop per un caffè fatta da Di Stazio e dall'altro vigilante prima che loro fosse caricato. Di Stazio nel frattempo resta nel carcere di San Benedetto in attesa del riesame. Su di lui si concentrano le indagini dei carabinieri che stanno cercando di capire dove possano essere finiti quei 4 milioni di euro.